Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Io non sono molto bravo a parlare. La nostra sera io voglio dire due cose. Io sono senza parole e assolate tutti questi pezzi, bellissimo, e desidererei che gli fareste un applauso grossissimo. Poi vorrei ringraziare la banda principalmente, poi vorrei ringraziare tutta l'amministrazione che ha mandato i fuori. Un ringraziamento... prova di tutta la nostra... prova di tutta la nostra... va. Vabbè, comunque ringrazio tutti e buonasera a tutti. Grazie. Allora, proviamo a vedere se il microfono funziona e così facciamo... Non lo so. Allora, da parte nostra regaliamo alla Balla Aurora, città di Panza, isola di Ischia, l'orologio col timbolo del nostro comune. Lo regaliamo al maestro, ricevo il premio del maestro, prego. Spero che lo metterete nella vostra salla musicale e così vi scadirà il tempo mentre fate le lezioni. Sì, sì, pieno di regole. Un torno della Balla Aurora, città di Panza, buon affetto. Grazie, 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 grazie e complimenti, buon concetto. Per piano mi chiedeva di leggere la frase che hanno inciso sul piano che hanno regalato a noi. Allora, agli amici della Balla Musicale Isola di Ponsa, con simpatia, la Balla Musicale Aurora, città di Panza. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.